Il fascino del mito da Ovidio a Paolo De Matteis. Questo è il titolo del libro scritto dal senatore cilentano Franco Castiello e presentato a Sapri nella biblioteca comunale Biagio Mercadante. Castiello dedica questa raffinata esegesi critica all'arte di un pittore, originario di Piano Vetrale di Orria, che si ispirò ai miti delle metamorfosi di Ovidio, trasfigurando i soggetti mitologici del poeta sulmonese in dipinti di grande valore evocativo che arricchiscono assieme ai quadri a soggetto sacro la cultura pittorica del meridione e non solo. Invece si ritiene sulla base di prove storiche, storiografiche, archeologiche che derivi cilento dalla dea Cilens che era una dea etrusca, perché gli etruschi non è vero che si erano fermati a Ponte Cagnana, non erano arrivati fino a Pesto ma a Poseidoni. E quindi diedero questo nome alla regione da una loro divinità, la dea Cilens, che era la dea che governava il momento della transizione dalla notte al giorno e dal giorno alla notte. Il giorno era rappresentato dalla lucentezza delle nostre spiagge assolate, la notte invece dalla ombrosità dei boschi, il gelbiso nella catena appenninica. Ecco quindi già si inizia dal nome, già il nome cilento è un mito. Allora noi dobbiamo coltivare questa prospettiva che è molto molto importante anche per le ricadute turistiche ovviamente di un turismo culturale, di un turismo gastronomico, di un turismo enologico, di un turismo archeologico e quant'altro. Ecco, sfruttando questa definizione, cilento terra dei miti. Ecco, in questo ambito io ho eseguito questa ricerca dimostrando come un grande cilentano, Paolo De Matteis nativo di Orria, per l'esattezza la frazione piano-vetrale di Orria, è stato uno dei più grandi pittori europei di fine seicento, inizi settecento. Lui ispirò, trasse ispirazione per la sua produzione pittorica che era celebrata in presso tutte le corti d'Europa. Persino il re sole Luigi XIV lo volle presso di lui per affrescare la regia di Versailles. Presente alla Biblioteca Mercadante di Sapri anche una delegazione di studenti dell'Istituto Cenni Marconi di Vallo della Lucania, accompagnati dalla docente Carme Lucia.